Le opere dell'artista barlettano Giuseppe De Nittis in viaggio verso l'America. Dal 12 novembre al 12 febbraio sarà il prestigioso Phillips Collection di Washington, il primo museo statunitense dedicato all'arte moderna ad ospitare la mostra dal titolo An Italian Impressionist in Paris. L'idea nasce dal riallestimento della Pinacoteca De Nittis ad opera dello storico e critico d'arte Renato Miracco che assieme ad altri studiosi italiani e americani ha dato vita ad una rilettura internazionale del pittore. La Pinacoteca barlettana accolta a Palazzo della Marra conserva tuttora più di 130 opere di De Nittis donate nel 1914 dalla moglie dell'artista Leontine Grouvelle. 32 di queste partiranno alla volta degli Stati Uniti e andranno ad aggiungersi ai 15 capolavori in arrivo da istituzioni museali come il Metropolitan di New York e il Louvre di Parigi, alle 14 opere in prestito da collezioni private e ai lavori della Phillips Collection per un totale di 75 capolavori esposti. Per tutta la durata dell'esposizione le opere date temporaneamente in prestito a Washington saranno sostituite nella Pinacoteca con altrettanti lavori di De Nittis conservati in deposito. L'iniziativa, che banta l'alto patronato del Ministero Italiano della Cultura, è stata presentata a Roma nel corso di una conferenza ospitata nella sede dell'Associazione della Stampa Estera. Tra i presenti all'appuntamento il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco di Barletta, Mino Cannito. Io penso, permettete di dirimolo da barlettano, che Leontine Grouvelle, che è la vedova che ha donato i quadri di De Nittis, che erano stati rifiutati dalla città di Parigi, oggi possa essere orgoglioso del suo Peppino, del fatto che 75 dipinti si incontreranno a Washington, dipinti che proverengono dalle più importanti gallerie e musei d'arti del mondo. Sono sicuro che questo progetto culturale, nella strategia di promozione e internalizzazione della Puglia, avrà innumerevoli prestigiose ricadute positive nella mia città e su interi territori pugliesi e ci aggiungo anche per la cultura italiana.